Come mai ad oltre sette mesi dall'approvazione della delibera 203 del 18 settembre 2019 immediatamente eseguibile di giunta comunale con oggetto eliminazione barriere architettoniche presso gli uffici comunali ad oggi i disabili non possono accedere a tutti gli uffici data la presenza di barriere architettoniche come mai nessuna ricetta in merito questa la richiesta del movimento disabilità di capaccio pestum in merito a quanto sottolineato dai consiglieri comunali angelo quaglia e ulderico paolino in una nota data alla stampa fare politica non è fare protagonismo fare politica significa essere riferimento fondamentale dei processi economici culturali politico sociali del proprio territorio anche con questa amministrazione come nelle precedenti si sente di tanto in tanto che il silenzio misterioso viene squarciato da qualche sirenetta politica che è più come un piangere sul morto che altro di diverso non servono proclami servono fatti poi la nota stampa continua il ludobus del piano di zona potrebbe essere utilizzato per il trasporto di disabili che ne abbiamo bisogno in questo periodo di emergenza può essere utilizzato per il trasporto di anziani non autosufficienti è sicuro che tutte le persone con disabilità hanno avuto accesso agli aiuti alimentari covid 19 domande alle quali nessuno risponde